Bella ragazzi, eccoci qua, siamo nel mio magazzino davanti allo scaffale dei metal detector vintage qui vedete in centro i white, metal detector white e qui con la maglia white e il logo white perché? perché un cliente che mi ha visto nell'ultimo video quando ho fatto il metal detector migliore del 2022 ha visto la maglia e il logo e mi ha chiesto, ah guarda, ho visto la maglia ma hai la storia della white e allora facciamo un po' la storia della white in Italia la white cominciò la produzione nel 1950 ma come contattori Geiger perché già da allora si voleva sviluppare il settore nucleare poi anni dopo quando la richiesta fu minore, cosa fece? la white trasformò dalla produzione di contattori Geiger e si buttò nella produzione dei metal detector questo è uno dei più vecchi, non il primo, uno dei più vecchi, guardate che belle manopole, che bella cassa e dentro c'è l'elettronica, ve la faccio anche vedere perché è uno spettacolo se ci guardate bene, vedete la scheda? sembra proprio essere tipo una radio a transistori degli anni 50-60 la tecnologia è similare, solo che questa è tecnologicamente rapportata a un metal detector io la white l'ho sempre avuta nel cuore perché il mio primo metal detector che usavo per la ricerca negli anni 80, 87-88 era proprio un white coin master 2db similare a questo similare a questo, che questo è un coin master 4db il 2db ha solo due manopole ed era un po' più corto erano un cercametalli che ad andare bene sentivano in aria una moneta sui 18-20 cm non di più, ma ad allora erano ottime performance infatti la white, passo dopo passo, perché faceva ottime macchine prezzi buoni, macchine affidabili e potenti era andata fino al top creandosi il primo posto mondiale di produttori di metal detector io nel 96 aprile azienda presi subito la distribuzione della Compass nel 99 fu uno dei primi che la Compass è stata creata da un dipendente white difatti anche la Compass era sempre sui Tom Oregon poi dopo, andando avanti nel 2002 io parlo sempre della storia in Italia nel 2002 volendo ingrandire la mia ditta cosa feci? e sapendo che la white era la primaria marca mondiale di metal detector come produzione insieme alla Garrett telefonai alla white in Inghilterra perché la white era prodotta in Sweet Tom Oregon, United States of America e invece in Italia era rappresentata dalla white Europe Inverness Scotland e il general manager della white Inverness Scotland era George McRae cosa feci? telefonai a George McRae e feci due chiacchiere in inglese che lo sapevo già sparlacchiare e mi misi d'accordo che presi 15-20 metal detector 15-20 metal detector erano già una buona quantità perché ad allora il mercato non era sviluppato tanto come adesso 15-20 metal detector ci voleva anche del tempo a venderli perché costavano anche una certa cifra in lire nel frattempo ha fatti arrivare questi metal detector e parliamo degli anni 2002 cosa mi arrivavano? io ero proprio entrato nella distribuzione della white quando c'era nel mercato il top il top uno dei metal detector più conosciuti della white ed era la serie 6000 prima la serie 6000 la fecero nella stessa scatola blu come questa con il master 6000D poi dopo c'era 6000D serie 2 6000D serie 3 che aveva la scatola visualizzatore lancetta sopra nella maniglia e dopo venne fuori il 6000D pro e 6000D pro plus già nella scatola nera sempre un bel cassetone grande pieno di elettronica era una scheda così con tutte le manopole e quello tirava da paura sentiva già le monete ad allora quasi a 40 cm 36-37 cm e si poteva usare sia in modo discriminante TR-disc non-motual e jab-disc un apparecchio che chi aveva chi aveva la passione della militaria se non aveva il white 6000 o aveva un 5009 un 4009 che erano più economici oppure aveva un ciscope questi erano i più gettonati per la militaria perché erano dei non-motual poi dopo la white si evolse anche nella elettronica digitale e dopo la serie 6000D pro plus che era il top di gamma della white cominciò e mise fuori mise fuori l'Eagle che adesso qui l'Eagle non ho il primo metal detector che era già ancora nella scatola blu l'Eagle e l'Eagle 2 che era il primo metal detector col microprocessore al mondo col display digitale e c'era anche la lampadina la luce era proprio un interruttore che si dava su adesso c'è la ritrolaminazione da allora c'era la lampadina proprio incandescente che illuminava il display guardate ci sono dei video ho fatto anche il video in questo canale qui dell'Eagle 2 che avevo è un apparecchio che è fuori di testa per quegli anni là diciamo che era avanti di 7-8 anni rispetto agli altri poi dopo l'Eagle 2 venne fuori la versione sempre nella scatola prima nella scatola blu poi nella scatola nera l'Eagle 2 e venne fuori un grande cavallo di battaglia ha modernizzato ed era eccolo qua il White XLT in tanti se lo ricordano questo aveva una potenza sparversa nel terreno e dopo venne fuori il multifrequenza White DFX e tantissimi ve lo ricordate ancora fino ad arrivare al questo era quello per loro il White GMT ecco qui il 6.000 questo era già il 6.000 XL cioè la versione miniaturizzata del 6.000 D Pro Plus con l'elettronica rifatta messa in un contenitore più piccolo cosa vuol dire vuol dire che avevano già capito qualcosa di come era il futuro ma io glielo dissi molto meglio nel 2010 dove andava il futuro già nel 2010 contattai gli ingegneri nella White USA e anche qui in Europa avvisai l'Angela avvisai l'Angela guardate il futuro va in questa in questa per questa strada bisogna fare metal detector piccoli leggeri più maneggevoli nel 2010 la White era ancora al top primo produttore mondiale al mondo era ancora sulla crescita dell'onda faceva tutta quanta la serie completa di metal detector per l'oro per la ricerca di relitti quelli subacquei vedete qui c'era il Surfmaster e il Beach Hunter ID la serie subacquee della White poi qua ci sono anche gli altri quello da profondità vedete il TM808 questo qui scendeva fino a 5-6 metri di profondità per grandi masse niente in quell'anno si vendevano tantissimi strumenti fino a 2010 2011 2012 2013 e questo è Kenneth White l'Honware il presidente della White quello che creò la White ecco proseguendo col tempo altri fabbricanti avevano capito che gli apparecchi gli strumenti bisognava modernizzarli farli sempre più leggeri più maneggevoli la White però è sempre andata avanti sul classico per tutti i clienti che cercavano e chiedevano metal detector classici con la classica scatola quadrata quella nera e anche se io gli dissi nel 2010 guardate bisogna farli in questo modo qui perché alla direzione del mondo va qui loro sono andati avanti a produrre a mantenere sempre quella tecnologia lì avevano fatto grandi passi in avanti quando crearono il metal detector prima fecero la serie Prism vi ricordate la serie Prism erano metal detector neri già con una bella bobina 8 pollici e fecero anche alle 11 pollici e poi dopo fecero la serie Coin Master che era in quella la versione uguale identica la serie Prism era la versione base che costavano sui 170 200 250 erano tre modelli Coin Master Coin Master Pro e Coin Master DGT avevano già fatto un bel passo in avanti con riduzione degli spazi elettroniche molto più moderni e anche quelli erano fra i metal detector entry lever più avanzati e più potenti al mondo ma la versione di metal detector professionali dopo il 6000 vi ricordate il famosissimo M6 MXT che ne chiedettero tantissimi i cercatori erano metal detector potenti anzi potentissimi facili da usare due manopole stabili col display eccetera ma anche quelli hanno durato tanto a farli tanto che la gente i clienti li vendevano una volta poi dopo li ricompravano li vendevano una volta poi dopo li ricompravano e il discorso era che si cominciavano a lamentare si cominciavano a lamentare che erano un po' troppo pesanti ancora con la bella cassetta di alluminio che è più protetta più robusta più schermata contro radio interferenze ma erano pesanti e il competitor andando avanti facevano sempre metal detector più leggeri fino a pochi anni fa purtroppo il mercato sempre calando dove nel 2010 2011 2012 io parlo qui in Italia anche più tardi quasi tutti cercavano la white era la marca più conosciuta fino a qualche anno fa fino a due tre anni fa quando ci fu il boom della pandemia e le richieste della white erano sempre in calo perché nuove marche mettevano nel mercato metal detector sempre più leggeri ma specialmente anche il mercato cinese faceva già cerca metallini bellini super economici ma anche basse prestazioni eccetera ma davano un grande impulso per abbassare il mercato di vendita della white cosa fecero la white purtroppo durante la pandemia ha deciso di chiudere la bottega e ha ceduto il logo e i copyright e le progettazioni alla Garrett l'altro grandissimo produttore mondiale dunque nel 2010 il più grande produttore mondiale era la white già dopo qualche anno e se vi ricordate vi dico anche quando la Garrett prese il sopravvento quando la white mise fuori la serie prism questi metal detectorini bellissimi con display digitale bobina bella leggeri telescopici e subito dall'anno dopo la Garrett venne fuori con il miracolo del metal detector mondiale il garrettino H250 ne fecero che ne fecero tantissimi e io sempre nel 2002 presi la distribuzione insieme nello stesso periodo che presi la distribuzione della white presi anche la distribuzione della Garrett perché erano i due produttori più grandi al mondo e da quel periodo lì la Garrett presi il sopravvento e divenne lei stessa il produttore più grande mondiale proprio con con l'entrata nel mercato del Garrett H250 il garrettino anche quello era un apparecchio che andava molto bene era anche molto potente era un pelino meno potente del white coin master perché il white coin master li levava le monete a 28 30 centimetri e il garrettino quelli ne avete tantissimi vedete anche voi che rileva sui 26 27 c'era pochi centimetri di differenza ma la Garrett commercialmente era più avanti ed era partita con la promozione dando in omaggio la cuffia dando in omaggio il copio bobina come tutti più o meno fanno ora ma ad allora era un di più molto apprezzato dai clienti che mandarono avanti le richieste del Garrett H250 e rimase un po' indietro quella del white coin master che era quello colore viola amaranto dopo pertanto con questo passaggio di grandezza di fabbricazione mondiale niente la Garrett ha proseguito la produzione adesso ha messo fuori anche molti frequenza molti strumenti subacqui eccetera mentre la white purtroppo con l'arrivo della pandemia già che le vendite erano calate già che il mercato si faceva più duro già che è arrivata la pandemia allora decisero di chiudere bottega e come ho detto prima hanno ceduto tutti i copyright i disegni i progetti e il logo proprio alla fabbrica che è stata sempre grande competitor ma competitor serio alla Garrett bene io vi ho già spiegato questa bella storia del del metal detector nel mondo in Italia che erano i più grandi produttori anche adesso la Garrett è ancora fra i più grandi produttori mondiali più avanzati se avete qualcosa da chiedere chiedetelo scrivetelo nei commenti io quello che so ve lo dico e lo condivido volentieri qui vi ho già fatto vedere vi ho già fatto vedere come erano belli questi metal detector della Hawaii vedate che spettacolo questo era quello per l'oro il gold master e in questo periodo qui verso il 2000 verso il 2000 2006 2007 il DFX era fra i metal detector più avanzati al mondo perché nel 2008 nel 2008 nel 2008 la Y2C col White Spectra V3 che ad allora era diciamo era avanti rispetto agli altri di secondo me di almeno 4 o 5 anni perché era già a multifrequenza aveva già il display a colori aveva tutte le regolazioni possibili immaginabili di fatti qualcuno si lamentava che faceva fatica a programmarlo ma che lo imparava bene non gli scappava niente e se guardate nei miei video ho fatto dei video test che già da allora questo White Spectra V3 rilevava monete in aria test in aria ma anche sotto terra perdeva ma perdeva il giusto le faceva test segnalazioni a 40 cm pensate ad allora in quell'epoca che era che apparecchio che aveva tirato fuori la White il White Spectra V3 poi dopo diventò V3i ed aveva già la cuffia senza fili collegabile senza fili wireless bene io vi saluto anche per questo video iscrivetevi nel canale vi do sempre informazioni molto belle anche storiche sapete che vendo Metal Detector da 27 anni e vi so consigliare bene in base alla ricerca che volete fare quanto volete spendere io vi consiglio il meglio la mia tecnologia è quella di farvi spendere il meno possibile con la miglior macchina che posso darvi nella vostra richiesta di prezzo e di budget che volete investire perciò saluto tutti quanti di nuovo da Stefanone Electronic Company al prossimo video ciao ciao